Lea è un Golden Retriever di otto anni ed è un cane da salvataggio da quando ne ha due. Lui è Gazzone, ha quattro anni e è un cane di Terranova. A tre mesi o una settimana già nuotava al centro di formazione dove si è allenata pure la sorella. Ha dimostrato da subito una buona predisposizione. È una amante dell'acqua, tant'è vero che adesso siamo in spiaggia e lei sta cercando di entrare in mare perché è il suo mondo, il suo gioco e lei vive per farsi i suoi bel bagnetti in acqua. Lea e Gazzone si sono conosciuti qua a Riccione in occasione degli europei di salvamento. Sì, hanno avuto modo in quell'occasione di conoscerci e sono rifugieri molto felici di festeggiare insieme queste cose. Il sopporto tra Lea e Gazzone è che Lea sopporta Gazzone perché fa il provolone con lei. Gazzone. 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 Grazie a tutti.